Mi si nota di più se lo facciamo a Chigi o a Villa Panfeli. Mi si nota di più se lo facciamo istituzionali o poco istituzionali. Sbloccare i cantieri, riaprire i cantieri. Mi si nota di più se lo facciamo in streaming o solo con rappresentazione fotografica. Sta giocando a tu sei quello buono o tu sei quello cattivo, come se fossimo tutti imbecilli perché Conte pensa che noi siamo stupidi. Io ci sono, gli inviti sono partiti, spero che ci sia questo confronto. Grazie. Grazie a tutti.